Sono il padre Roman, sacerdote ucraino. Adesso noi siamo in Ucraina, regione Ternopoli, una bella città che si chiama Chortkiv. In questa diocese noi abbiamo una casa di misericordia, una casa per i bambini disabili. Ci sono bambini che vengono per giorno per fare reabilitazione, ci sono bambini che vivono dalle zone di campagna che non riescono a venire e andare avanti e indietro perché le famiglie sono poveri. Ci sono bambini che sono abbandonati o da una famiglia che vive male, che mamma beve o da una famiglia con genitori con disabilità. Ci sono anche le mamme che sono invalide, che sono orfani, che hanno vissuto la vita là fuori, che non hanno casa e hanno bambini piccoli. Ogni mese non sappiamo come facciamo avanti. Di solito anche Tania dice che non abbiamo soldi per stipendi. E allora non sappiamo cosa fare perché dobbiamo vivere in qualche modo. e vogliamo lavorare, c'è la voglia di lavorare. Ci siamo tutti preoccupati per questo perché non vogliamo lasciare questo lavoro che ci piace tanto stare con questi bambini e così. Grazie.